sto funzionando ciao a tutti i ragazzi benvenuti in un nuovo video e m come oggi ci sarà anche mio fratello minore non ti ho detto di fare con la faccia oggi noi siamo in un oggi no oggi noi siamo in una oggi noi siamo in una provano spaventarti esatto per fortuna sono già andato in bagno quindi non c'è il rischio che me la faccia addosso più o meno per te invece? sono proprio piccolo c'è il rischio ok per lui il rischio c'è vabbè non pensiamoci più e guardiamo mi ricordo mettiamo un po' il volume che dici sta succedendo qualcosa? lui ha il terrore che ora salta fuori da qualche aperto un jumpscare è una questione di abitudine abitudine mi tiene già male magari sposto un po' verso di te ecco così vedete si vede meglio scendiamo un po' la luce si vede meglio diremo un altro proprio che si vede meglio e questo fermo buoni 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 cosa è successo che fa dopo città nello specchio posseduto allo specchio posseduto come in ogni ora anche vabbè assicurato in quel tipo 6 lei video ci sono le bambine davanti agli specchi loro girano la testa e il loro riflesso li diventano gli occhi neri anche allora la testa gira dopo mezz'ora amica mia suicida ti ammala se no lo farà il damone nello specchio ancora suoni a caso vabbè non lo sta facendo così mi sto dicendo cosa fare se ma che cosa fai a questo è un demone bruttissimo non sa per niente paura tu aspetta dove fanno il contrario io ho dei capelli inguardabili buongiorno buonate vabbè questi c'erano troppo quello che si fa a lei si fa a lei se lei si fa male si fa male anche la vera lei 118 sono morto all'altro fa male ma no sul serio pensavo fosse un massaggio schiocca dita ora tocca il braccio a 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